Buongiorno, in questo video vorrei parlarvi dei falsi miti dell'amore e quindi della dipendenza affettiva. Diciamo che generalmente le persone che tendono ad avere una relazione tossica hanno una profonda incapacità di vivere la solitudine perché la vivono come una condizione da cui fuggire in maniera fobica. Questo comportamento naturalmente ha un'origine specifica nella carenza delle cure genitoriali e si tratta di un vissuto che ha a che fare con l'abbandono, con il non riconoscimento e quindi con il rifiuto. E la persona pur di non rivivere questo vissuto di rifiuto, cosa fa? Il dipendente affettivo quindi è disposto ad accettare le condizioni più umilianti al fine di salvaguardare il rapporto stesso. Ora, occorrerebbe educare i ragazzi e le ragazze a non cadere mai nei falsi miti dell'amore. Ci sarebbe bisogno di una pedagogia del rispetto di sé che insegni il diritto di dire di no e che porti a identificare la relazione d'amore come un'opportunità di piacere di crescita e non come un'esperienza di sacrificio o di sottomissione. E allora, i principali segnali per riconoscere la tossicità di una relazione sono, numero uno, la dipendenza. La dipendenza scatta nel momento in cui l'altro diventa indispensabile. Indispensabile per l'autostima, per il mantenimento delle fiducia in se stessi, per il contenimento degli stati d'ansia. Quando l'altro diventa troppo importante, arriva la dipendenza. L'altro è diventato indispensabile anche per il mantenimento di un sentimento di integrità e quindi di coesione personale. Per cui la vittima, la persona dipendente, di fronte all'allontanamento dell'altro, ha la sensazione di cadere a pezzi. In quest'ottica l'altro può diventare l'unica ragione per sentirsi motivati e vivi. È come se il partner fosse l'unico in grado di tirare fuori la persona dipendente da una condizione depressiva, dandole l'illusione di sentirsi rivitalizzata. Ma questa è un'illusione che porta la persona dipendente ad essere soggetta ad una sindrome di tipo astinenziale. Di conseguenza, il secondo segnale, oltre alla dipendenza, è la suefazione al partner, che diventa fondamentale per mantenere l'equilibrio psichico. E quello che caratterizza queste situazioni è proprio l'incapacità di sostenere l'evento della separazione. Il fatto di vivere malissimo le separazioni cosa comporta? Innesca una situazione per la quale la persona dipendente diventa facilmente ricattabile. Perciò, pur di evitare la separazione, cosa fa? Tende a rinunciare ad aspetti importanti della propria esistenza. Magari ai propri interessi, al proprio lavoro, persino ai propri valori etici, finendo per perdere di vista la propria identità. E poi c'è anche un altro campanello d'allarme. I dipendenti affettivi sono caratterizzati, sapete da cosa? Dal ricercare partner non amorevoli. E spesso si lasciano sedurre da chi rappresenta in qualche modo il loro opposto, ossia da un soggetto che incarna un'immagine fortemente autoreferenziale, proprio come il narcisista, che ostenta la sua falsa sicurezza. solitamente si tratta di narcisisti che possiedono in alcuni casi anche una componente sadica. Il dipendente affettivo è molto attratto dal narcisista perché il narcisista incarna quell'ideale di perfezione e di sicurezza a cui il dipendente si vorrebbe attaccare, con il quale vorrebbe fondersi. E c'è anche da dire che i partner narcisisti, soprattutto all'inizio del rapporto, tendono a promettere molto. Fanno il cosiddetto love bombing, ma poi di fatto non sanno concedere nulla, se non una relazione dove, nei casi più gravi, tendono ad esercitare il controllo sul partner dipendente. Quindi lo umiliano, lo maltrattano e lo tengono in una condizione di assoggettamento, senza concedergli nulla nei termini di una reale affettività. E poi c'è anche un altro punto essenziale. La persona dipendente si mette nella condizione di servire questi soggetti narcisistici, di adorarli, di venerarli, nell'attesa di un riconoscimento che non arriverà mai. Questo è il paradosso tipico di ogni condizione di dipendenza, dove si punta tutto per ottenere un certo tipo di risultato e ci si ritrova a vivere nella situazione opposta. Il dipendente affettivo nutre l'illusione di aver trovato la figura salvifica che lo risolleverà dalla situazione depressiva di solitudine, di abbandono, ma finisce invece per diventare la persona più sola e abbandonata che ci possa essere dietro ad una relazione. E allora cerchiamo di dare dei consigli. Un consiglio per uscire da questa situazione è quello di imparare a coltivare l'arte della solitudine. Il dipendente affettivo deve imparare a stare da solo, a non vivere soltanto di luce e riflessa, a non essere solo l'eco della voce di qualcun altro. Il dipendente affettivo deve accettare la propria storia per non riprodurla, per non cadere in una coazione a ripetere e quindi per poter riscattare la propria infanzia deprivata. Le persone dipendenti sono attratte da chi non le ama, questo è il problema. E questo è già accaduto in passato nelle loro relazioni primarie. Ecco perché il dipendente vuole inconsciamente riconquistare il cuore dell'altro per riscattare la considerazione che sente di non aver mai ricevuto durante l'infanzia. Ma alla fine, ironia della sorte, succede proprio il contrario. Perciò il dipendente affettivo non fa altro che riprodurre la propria storia, circondandosi di persone incapaci di amarlo. Ecco perché a questo punto diventa molto importante conoscere i falsi miti dell'amore per liberarsene. I falsi miti sono generalmente dei miti che si basano sul sacrificio e sulla salvezza, miti sacrificali e salvifici. I miti sacrificali ci dicono che amare significa annullare se stessi per l'altro e questa è una grande sciocchezza. magari anche avendo l'aspettativa che poi l'altro faccia lo stesso per noi e questo è assurdo, è falso. Poi ci sono i miti salvifici che ci dicono che amare significa salvare l'altro e anche in questo caso è falso. Anche in questo caso noi ci aspettiamo che l'altro faccia lo stesso con noi ma non succede un bel niente. La realtà è che nessuno salva nessuno e l'amore vero non c'entra nulla con questi meccanismi e questi schemi mentali dei quali dobbiamo solo liberarci. Bene, per approfondire il discorso vi rimando ad una playlist dedicata proprio alla dipendenza affettiva, poi ce n'è un'altra dedicata all'Arcisismo che troverete nel mio canale youtube e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedervi una consulenza dovete scrivervi un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando il nome, il cognome e i vostri orari preferiti. Buona giornata.